Allora, banniamo un campione, might be cut out tp enemy, ok, allora leviamo Katarina Kaisa è open, sperando che la bannino loro, mi sto facendo la pipì addosso, non capisco il motivo Kaisa bannata? Porco 2, Kaisa è sempre Brogan Non prendete Kaisa, 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 non prendete Kaisa Prendiamola noi Prendiamo Kaisa Abbiamo qua Braum come pick molto forte Anche Taric Non è male il suo meta ragazzi Avete visto che cazzo di value che c'aveva nei fight Poi vabbè Taric e Karim È la cosa più facile del mondo Ciao professore No Eh vabbè ma Kaps è più forte Fragolozzo Allora potremmo andare di Braum contro questi qua E fatemi pensare un secondo Braum Ok Kartus Vediamo che altro prendo Perché ovviamente non ho idea di che cosa pick Adesso game Perché potrei andare di Gianna Ma contro tesci mi fa un po' schifo Ciao Kakatoa Ti voglio sempre più bene Beulù O minore di 3 Grazie Stellina Grazie per gli otto mesi Non ti piace di support a Poc Ma no è vero Gioi con Karma Gianna Baciami stupido Prendo Blitz ragazzi Ma sinceramente non sapevo cosa pick Una delle draft più difficili che abbiamo mai fatto Arrivo ragazzi Biccio Alla prossima Alla prossima Eccomi qui ragazzi Allora Uno, due Star 3D Alla prossima Alla Aiutatemi Aiutatemi The rights Then we kill Them with my level 2 at red Ok Alla prossima Comunque la di Blitzkank a livello 1 è incredibile Abbiamo vinto noi direi ragazzi È una vittoria importante anche perché Kai'Sa è uno dei campioni più forti del gioco e ha 3 kill E Kai'Sa ha preso 3 stack di Dark Harvest Io direi approvo Approvo Quello è pazzo Quello è pazzo Non dovevo resistere l'auto attack eh Moriva da Kai'Sa Però sti cazzi Kai'Sa ha giocato un sacco di kill Quella è una c sickle2 vai qui 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 e qui 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 c'è un sacco di ultimo mistake com'è ragazzi ce l'avete così? vi piace così? ok forse è un po' alto leggermente alto mamma mia sicuramente è morto triggerato ragazzi bisogna distrattare un attimo non fa niente ritorniamo in noi ok andiamo a botte guardatemi mi trovo in cantina della QL ASX ho 8 anni e sono riuscito a collegarmi da un vecchio pc paolo mi ha rinchiuso qui da sette mesi aiuto stai mentendo ora ci siamo di nuovo ok frizziamo l'acqua ok 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 Quello lo farmano Che lo posso negare Però quello Che lo vorrei negare Così non è negabile Ovviamente Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Grande Paolone Grande Selina Allora vediamo se Possiamo fare Mi piacerebbe questa idea ragazzi Vediamo se funziona Abbiamo preso Quattro abilità L'unica sai cos'è? Shaco Non vale Tancarlo tutto io Ok Ci abbiamo Trash Senna No no Che lo posso negare Ho risolvamente Il carretto Non sono morto Quindi Faccio più di piazza possibile Bisogna di strat Ragazzi TP TP In top lane No 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 Grazie a tutti Va bene Allora dove dobbiamo andare Pensiamo al dopo ragazzi Sti cazzi di errori Non me ne ho fottuto nulla Allora Cerchiamo di traccare meglio la minimappa Cassin ha farmato poco Ma ha preso un sacco di kill Counteriamo se ne è trash Sciaco Abbiamo le scarpe Ci serve il 6 Ci serve la quest Ci è molto più utile pensare a quello che dobbiamo fare Rispetto a quello che non abbiamo fatto Vai Ho il 6 Ok Poi ci dovrebbe essere trash Non vorrei urtare Che spada Beh Prima giocata giusta questa Della partita proprio Un bel predict Qua Guardiamo per sciaco Baciammi Stupido Ciao adoro vedere le tue recensioni sulle patch Continua così Ah no volevo dire che adoro vedere i video dove giochi con i challenger Ah no Volevo dire che adoro quando dai consigli che feriscono le persone Ok Era un flame di uno scarsità incredibile A parte che penso che ci gioco pure io con i challenger a breve Poi consigli che feriscono le persone Non ti rispondo Se no mi rovina la lag Va bene Va benissimo ragazzi We can win We can win Cassini Lo voglio morto Zecche Me lo faccio Quanto è D Quanto è P No mi faccio il log Il primo item Sono rinunzato da farmato un mino Non so perché la Muore Vai riflessere prima Ci sono anch'io mid lane Uno lo ammazziamo Lui mi sembra molto fiddato Lai non so dovevo usarla ma ormai l'abbiamo usata Va bene Quello fa molto male HP pink Va c'è mi stupido Ciao bell cannone Come stai? Ciao cellina Sono una mamma calda a 20 km da te KS 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 Come stanno i bambini nel seminterrato Wiki 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 Ti ricordo che sto a 20 km da te Ti aspetto Ti aspetto Ok Veniamo a mid lane Exhaust Pink Ho un bellissimo Rizzonamento Vado mi stupido Bella baulone del mio minore di 3 Eh qua ci facciamo la kill Ciao 11 dedicimento D Di D Di 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 Mamma mia come romma il pazzo Non hai detto che io muoio Non muoio Allora tracchiamo molto meglio la mia mappa Ragazzi ci siamo Ho perso il focus in un attimo Bella Ferrobit Grazie Stelina sei dolcissimo Per chi giochiamo Gragas è forte Kais è fortissima C'è un pochino Mi sa che non muore di poco ma non muore Wow Che sfiga ragazzi Ero fuori dalla ulti per un centimetro E l'inghetto non l'ho ucciso Mamma mia che sfiga It's fine We can win Siamo positivi ragazzi perché appena Si insiede il germe del dubbio Si perde Quindi pensiamo solamente a come Ai passi necessari alla vittoria Ok Siamo topside Baciami stupido E oggi sono tre Grazie per tutti i sorrisi che ci regali Un bacione minore di tre Ma grazie a te vita mia Baciami stupido Baciami stupido Baciami stupido Aaaaaaaiaiaiai Che bravo Che bravo Va bene così E mutiamo mutiamo Chi ci rompe il cazzo Se ne può andare a fare in culo ragazzi Non vogliamo questa persona La nostra vita Via Out Morto Per me si è morto Ciao Aiutati che Dio ti aiuta E magico si Ok Proviamo a difendere la mid lane Lui è molto fidato Cazzo Quello voglio io Resettiamo TP No Eal Eal Ideal Magica resistance Pink Vai We can win Continua a spammarlo Voglio solamente leggere questo Se non c'è speranza Non c'è speranza c'è solamente morte Ok Hanno preso l'Araldo Kasen Lo uccidiamo Su una ultimate Ho la Ial Lo prendo io Ok Benissimo Molto forte Kasen Ma possiamo comunque vincere Vogliamo vincere E ci impegniamo per raggiungere la vittoria Prima o poi Piscerei fuori dal vaso Sono sicuro Kasen Nessuno è perfetto Tutti sbagliano Prima o poi nella vita Aspetto che tu sbagli Per saccarti la gola C'è un buco Buona È il primo errore? No Secondo è more uguale Comunque non è morto nessuno Ho sperato Flash in zona È una cazzata We melt Baron Get ready for it We can win Mettitolo in testa Lock it up Pink Poi Poi Cosa c'è poi? Guarda la prossima mossa Settappare il Baron Giocare per topside Mandare Ragazzi in bot No Non è il TP We can win Ecco Kasen Ottimo Vince Vince Come vince Come vince Come vince Come vincevo noi Mamma C'è fatto il pelo Occhio che vedrà Lo stasera Nel Baron Lei muore Non si può salvare Muoiono entrambi No L'ho presa io Qual è il miglior item Che posso fare Con questa merda Lo zek Ciao Paolo Sei ciò che mi fa Alzare al mattino Ti ringrazio di esistere Grazie Mad Jack Sei dolcissimo Faccio lo zek Forse era meglio Il night Per lei Per lei Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.